Cominciamo con il tuo nome. Quarantasette. Spiegami chi sei. Un assassino. E sei qui per uccidere chi? Dovrebbe lasciarmi andare. Mi risulta che sei tu quello chiuso qui dentro. E io ho un'arma. No, Mr. Sanders. È lei quello chiuso qui dentro. E mi ha appena portato la mia. Se la cosa ti sembra strana è perché lo è. Lui è un essere umano modificato. Più forte. Più veloce. Più intelligente delle persone normali. Li chiamano agenti. Che cosa c'entra tutto questo con me? Tuo padre ha dato inizio al programma agente. Conosce la loro debolezza. No, non, non, non. I'm a voodoo child